Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Arvas relativa alle spade dei Celti. Si trattava di armi di buona o di cattiva fattura? E soprattutto è vero quello che è riportato da alcuni autori classici, ovvero che in battaglia si piegavano? Prima però è doveroso fare una premessa. Come avevo già accennato in un altro video, quello dedicato alla spada gallica Latem B, la spada celtica non esiste come una categoria assoluta sempre valida indipendentemente dal contesto cronologico o geografico. Le spade dei Celti mutano col passare dei secoli tanto in struttura quanto in lunghezza. Oltretutto sono frutto di tecniche di lavorazione differenti, che sono presenti in percentuale variabile a seconda del contesto geografico. Infine noteremo poi come a un certo punto della storia dei Celti interverranno dei fattori di ordine sociale che andranno a condizionare la fattura delle loro spade. Per poter discorrere con un minimo di coniezione di causa della questione bisogna perlomeno aver letto un libro, The Celtic Sword, edito nel 1993 ad Oxford e scritto dall'archeologo Radomir Pleiner. Per chi volesse approfondire ulteriormente il soggetto nella descrizione del video in basso trovate un link che permette di scaricare direttamente il pdf dell'opera. Per presentare uno studio il più possibile approfondito ed articolato sulla natura della spada celtica Pleiner ne analizzò ben 120 esemplari, scegliendoli a caso tra quelli dell'Europa occidentale e dell'Europa orientale. Questi esemplari sono per lo più appartenenti ad un arco temporale compreso tra il 400 e il 200 avanti Cristo, quindi per la maggior parte si tratta di spade Latène B, quindi come questa, e di Latène C, quelle subito successive, che sono fino a 10 cm più lunghe, grossomodo, e spesso sono prive di costuratura centrale. Ciò che emerge dalle analisi metallografiche fatte da Pleiner è un quadro assolutamente variegato, che mostra diverse tipologie di lavorazione del metallo. Alcune spade sono realizzate per ripiegatura, un sistema che prevedeva il ripiegare su se stesso una o più volte lo stesso ringotto di ferro, così da produrre una lama che aveva una struttura il più possibile omogenea. Un altro sistema di lavorazione indicato è la stratificazione, che prevedeva l'utilizzo di barre di ferro dal contenuto di carbonio e fosforo variabile, a seconda della barra, che venivano battute e così saldate tra loro, producendo una spada che aveva delle caratteristiche meccaniche diverse a seconda dello strato. Poi vi è anche un'altra tecnica di lavorazione che è stata riconosciuta, che è il Pattern Welding. Cos'è il Pattern Welding? Semplifico molto in questo caso, però potremmo dire che è la fusione delle due tecniche già descritte che porta alla realizzazione di lame che oggi noi definiremo più o meno Damascate. Quindi il quadro che ci viene restituito è quello di una metallurgia tutt'altro che grezza. Va anche detto però che a causa dell'enorme estensione della cultura celtica, unitamente a un altrettanto enorme mancanza di coesione e di un potere centrale, una struttura statale ben codificata, le innovazioni tecnologiche si diffondono in maniera discontinua, a macchia di leopardo, in alcune regioni arrivano molto tardi o non arrivano mai. E quindi davanti ai nostri occhi c'è una metallurgia che offre dei risultati che sono appunto discontinui, non omogenei. Ad esempio abbiamo delle lame costruite tramite stratificazione che, osservate in sezione, mostrano una struttura completamente caotica, che evidentemente è stata creata senza una pianificazione preventiva. Il fabbro ha preso barre di metalli diversi e a casaccio le ammartellate tra loro. Questo perché? Perché se sicuramente i fabbri dei Celti avevano capito che unendo tra loro ferri diversi si poteva produrre una lama di qualità superiore, alcuni tra loro non avevano capito esattamente come, e quindi agivano appunto per tentativi. Tentativi che potevano essere completamente caotici, come in questo caso, oppure che potevano avere un disegno alle spalle, ma che in alcuni casi si rivelava un disegno sbagliato, come in altre spade realizzate per stratificazione che mostrano di avere i taglienti realizzati in ferro battuto e l'anima, la parte interna centrale della spada, realizzata in acciaio. Alcuni archeologi francesi hanno provato a postulare che questo fosse un risultato ricercato, voluto, perché una spada con i taglienti in ferro battuto poteva essere riparata facilmente, il filo poteva essere ricostituito velocemente anche dagli stessi combattenti, più o meno come funziona per gli attrezzi agricoli dei contadini nel secolo scorso. In realtà però probabilmente si tratta proprio di un errore di fabbricazione, perché specularmente abbiamo altre spade celtiche che hanno invece in maniera assai più sensata la struttura centrale in ferro battuto, più flessibile, e i taglienti invece in acciaio, che così hanno una filatura che regge di più nel tempo e una struttura più robusta. Infine abbiamo anche delle spade, queste appartenenti per lo più alla tipologia la ten C e la ten D, quindi proprio le ultime spade celtiche, stiamo parlando del primo secolo a.C., che presentano un elevato tasso di carbonio esclusivamente su uno dei due taglienti, quindi una superficie di acciaio solo su un tagliente. Questo perché probabilmente si tratta di spade concepite con alle spalle l'idea di costruire un'arma che sarebbe stata utilizzata quasi esclusivamente per portare un'unica tipologia di colpi, ovvero fendenti dall'alto verso il basso. Quindi riassumendo, il quadro che ci viene restituito dalle analisi puntuali di Pleiner è estremamente variegato e diseguale. Accanto delle spade che sicuramente erano di qualità superiore ve ne sono altre che lo sono altrettanto evidentemente meno. Il 60% delle lame analizzate da Pleiner risulta realizzata con metalli di buona qualità. Il restante 40% invece mostra dei contenuti di carbonio e di fosforo molto bassi, tant'è che i metalli di partenza sono stati catalogati come acciaio dolce, se non addirittura in certi casi semplice ferro battuto. Di questo 40% una parte è stata realizzata partendo da un singolo lingotto di ferro, quindi senza procedimento di stratificazione. Sono queste le spade di fattura più scarsa. Pleiner ha realizzato delle riproduzioni di queste armi specifiche e ne ha testato le qualità meccaniche. Sebbene le sperimentazioni eseguite da Pleiner siano in una certa misura questionabili e lui stesso abbia sottolineato che i colpi non sono mai stati portati a piena potenza, i simulacri, quando sono stati testati su una superficie analoga a quella di uno scudo bordato in ferro, sono andati a piegarsi e a danneggiarsi. Quindi queste spade risultano sicuramente delle armi deficitarie. Va sottolineato però che si tratta di una porzione del 40% delle lame investigate, quindi una percentuale decisamente risibile. Ma dunque, alla luce delle sperimentazioni eseguite da Pleiner, quando i classici scrivono che le spade celtiche in battaglia si piegano, hanno ragione o hanno torto? Entrambe le cose, perché le fonti vanno sempre approcciate con la corretta capacità critica. Plutarco e Dionigi, quando parlano delle spade celtiche che si piegano, lo fanno in riferimento alla battaglia dei Colli Albani, che avviene nel 367 a.C. Eppure i lavori del professor Daniele Vitali hanno più volte dimostrato che le spade celtiche di quel periodo, in particolare dei celti calati in Italia, erano di ottima fattura, tant'è che vennero adottate quasi da tutte le popolazioni che con i celti entrarono in contatto. Vennero adottate dai Veneti, dai Reti, dai Liguri, ma anche dagli Italici, dagli Etruschi e dagli stessi Romani, quindi è ben difficile che fossero spade di cattiva fattura. In realtà Plutarco e Dionigi effettuano un calco da Polibio, che tratta però di tutt'altra battaglia, la Battaglia dell'Oglio, combattuta nel 223 a.C. Per capirci è come se oggi qualcuno, per descrivere l'armamento di un soldato napoleonico a Waterloo, utilizzasse la descrizione di un soldato francese della Seconda Guerra Mondiale. Di conseguenza, in questo caso specifico, Plutarco e Dionigi non sono particolarmente affidabili. E Polibio? Polibio invece al contrario appare molto affidabile, se non altro perché a sua volta riporta Fabio Pittore, che fu testimone oculare della Battaglia dell'Oglio e che partecipò in prima persona a tutta la campagna di conquista della Gallia Cisalpina. In questo caso specifico, infatti, il dato letterario viene confermato anche da quello archeologico, poiché la maggioranza delle spade analizzate da Pleiner che rientrano nella categoria di quelle più scadenti appartengono alla tipologia Latène C, quindi della seconda metà del terzo e prima metà del secondo secolo a.C., e provengono quasi tutte da località della Gallia Cisalpina, Acquate, Novate, Bergamo, Magenta. Si tratta oltretutto di siti propri dei Galli Insubri, proprio quei Celti che affrontarono i Romani alla Battaglia dell'Oglio. Quindi, alla luce dei risultati ottenuti, l'affermazione più corretta da fare è la seguente. Alcune spade celtiche di tipo Latène C circostanziate per la maggior parte in Gallia Cisalpina erano di tipologia scadente e in battaglia potevano piegarsi. Un dato ben diverso da un'affermazione generalista e completa. Una domanda può sorgere spontanea, ma come è possibile che le spade di tipo Latène B di IV, prima metà del terzo secolo a.C., fossero tutte di ottima fattura, mentre invece le Latène C, quelle del secolo successivo, abbiano tra loro dei modelli di fattura scadente. In realtà non si tratta di una vera e propria involuzione della metallurgia, tant'è che proprio dalla Gallia Cisalpina che restituisce il maggior numero di spade scadenti continuano anche nel periodo delle Latène C a coesistere spade di buona fattura, alcune che provengono addirittura dagli stessi siti che restituiscono anche spade mediocre. Il bannolo della matassa in realtà è di ordine politico, sociale ed economico. Con l'affermarsi progressivo nel III secolo della monetazione le comunità celtiche della Gallia Cisalpina cominciano a produrre un ceto mediano. Non si tratta né dei nobili guerrieri né dei contadini, ma di allevatori, piccoli proprietari terrieri, mercanti, artigiani. Costoro quando scendono sul campo di battaglia vogliono farlo tendendo all'ideale eroico, armandosi in maniera analoga ai nobili guerrieri, anche perché il modo di porsi in guerra nella società celtica si rifletteva anche sul prestigio sociale. Purtroppo però questi individui non hanno la stessa disponibilità economica dei nobili guerrieri, debbono accontentarsi quindi di spade lavorate in maniera più dozzinale, però più economiche. A questo si somma la necessità spasmodica dei mastri fabbri celtici di assolvere nel più breve tempo possibile a una richiesta sempre crescente di armamenti, causata nel periodo Latène C dall'ingerenza sempre più pressante dei Romani in Gallia Cisalpina, che porta ad un aumento della bellicosità e una militarizzazione delle intere comunità celtiche e di conseguenza al proliferare di modelli di spada mediocri. Spero di essere riuscito a rispondere in maniera esauriente alla domanda. Se anche voi avete domande da farmi scrivetele nei commenti, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie!